No, se lo fai bene lo fa, lo fa più, sai che vanno? Vediamo. Vediamo. Centrato sul topo. Sta partendo da giù, da giù a su. Sì, viene proprio a Milano tra un paio di mesi, o tre, non mi ricordo, giugno o luglio. Vediamo. Vediamo. Uiii, cazzo la roba! Viene bene, viene bene, viene bene, ma... Mamma mia! Questo software campiona lui da solo, fa tutto lui. C'è qua, c'è da volarci pochissimo l'immagine, non l'ho neanche toccata io. Si sceglie lui... Si sceglie lui i parametri migliori per schiarire, scurire le zone. Puliamo. Ma non... ... L'ho mai visto così. ... 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